...le mani, una cosa che non ci vedete per voi. Oggi abbiamo i primici di conto che in passato si sono muniti di patrimonio e adesso, come abbiamo detto che inizia dalla Soltanessa, tornano a ringraziare i signori per aver fatto il conto di grande accendere, 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 accendere il tuo cuoco per amore, questo cuoco che inizia anche, magari non ha esperienze, inizia anche dall'alto, quando comincia la gioca piena, la felicità immensa, altre volte parlano un po' di preoccupazioni, avremmo qualche attenzione, però dopo tanti anni ci si accorge che stiamo qua a dire, per qualche volta lo sentite, magari in tanti ragioni che lo dicono, così altrimenti non c'è una persona che parla, no? Ecco, allora, se ci siamo venuti all'inizio del nostro cammino, oggi, dopo 15 anni, 15 anni, 15 anni, noi ci siamo venuti all'inizio del nostro cammino.